Ragazzi miei, è incredibile, è stata completamente ribaltata la sentenza, quindi statemi bene a sentire, questa è una flash news, fresca fresca, è ufficiale, Juventus-Napoli si deve rigiocare, è stato annullato il 3-0, incredibile ma vero. Adesso vi leggo rapidamente la notizia e poi la commentiamo. Juventus-Napoli si deve rigiocare, il collegio di garanzia ha colto il ricorso del Napoli, annullando così il 3-0 in favore dei bianconeri e il punto di penalizzazione per il Napoli. Adesso andiamo anche ad analizzare quindi la nuova situazione di classifica. In Napoli i De Laurentisi si sono presentati con enorme fiducia al CONI, oggi convinti di essere nel giusto, il presidente del Napoli lo ha ribadito ad udienza chiusa, ha detto infatti siamo abbastanza fiduciosi che la situazione possa ribaltarsi e poi effettivamente, scusatemi, così è avvenuto. Il Napoli ha cominciato presto a sperare perché il collegio di garanzia sembrava intento a considerare le ragioni del Napoli, come dimostrano le prime indiscrezioni su quanto avvenuto al CONI. La corte sportiva d'appello ha fatto il passo più lungo della gamba, così Alessandra Flammini Minuto, procuratore nazionale dello sport, durante il suo intervento, quindi già trapelava qualcosina in merito. Io sinceramente avevo iniziato a pensare, tu guarda che la fanno, che la fanno rigiocare. 17.40 ragazzi miei, la notizia che dà ovviamente enorme felicità ai tifosi del Napoli. Che cosa succede in classifica attualmente? Quindi la partita che va assolutamente rigiocata. Aspettate eh. Allora, situazione di classifica. Napoli che quindi sale a 24 punti e ovviamente non ha più 13 partite giocate, così come la Juventus. Devono recuperare quella partita, quindi, detto in poche parole, per il Napoli non solo un punto in più, ma anche la possibilità di guadagnarne altri tè. 3, cioè, non so se avete capito, 24, possibilità di andare a 27. Ah, e no, 3 punti in meno ovviamente per la Juventus che quindi scende a 24 adesso che ci sto pensando. Chiedo scusa per un attimo, ovviamente mi era passato di mente, quindi io vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questa situazione. Tifosi del Napoli e non. Ci speravate in questo completamente ribaltamento totale di questa situazione? O non lo so io, perché sinceramente da come era uscita fuori la sentenza, uno dice, sai che c'è, hanno trovato delle prove che il Napoli non voleva proprio presentarsi lì. Quindi io sinceramente non me lo aspettavo, evidentemente non lo so, lo sanno solo loro come sono andate effettivamente le cose. Probabilmente il Napoli ha dimostrato appunto che non è stata per colpa loro, ma che in realtà c'è stato un vero e proprio effettivo impedimento che gli ha impedito di partire. Quindi partita che si rigiocherà, carte rimesse completamente in gioco e adesso sono curioso di vedere tutto quello che accadrà. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi ad entrambi i miei canali, profili social, Instagram, comprese, tutto in descrizione, contenuti consigliati. Ovviamente qui sotto a voi la parola nei commenti. Ciao rega!